ciao a tutti e benvenuti al canale youtube delle due torri e da mauro casadefi dei trainer col video di oggi riprendiamo il filo logico del nostro corso elementare della nostra scuola elementare di tattica nei primi video di tattica ci siamo concentrati su tutte quelle che erano le minacce doppie fondamentalmente le forchette le infilate le inchiodature gli scacchi di scoperta e gli attacchi di scoperta abbiamo anche menzionato così un passato il pezzo rompiscatole il pezzo rompiscatole un termine che assolutamente non è tecnico però è un concetto che secondo me nella mia esperienza aiuta molto a individuare determinate soluzioni e andiamo a vedere adesso con degli esempi concreti che cos'è questo pezzo rompiscatole lo abbiamo già visto cominciamo a rivederlo e vedere quali temi tattici sono inclusi all'interno di questo grande contenitore il pezzo rompiscatole in molti casi altro non è se non il difensore chiave ma quale sta la difficoltà nel identificare un difensore chiave la difficoltà è identificare una minaccia cioè se io identifico una minaccia o una minaccia chiamiamola così una minaccia difettosa una minaccia che non funziona allora prima di scartare l'idea definitivamente andiamo a vedere se lavorandoci riusciamo a farla funzionare io so che molti di voi quando vedono una minaccia ci guardano e dicono l'avversario la difende quindi non la posso fare invece la sfida è una sfida che si può tranquillamente superare con un po di allenamento è proprio quella vedo una minaccia vedo che non funziona ma vedo che apportando i giusti correttivi facendo le giuste operazioni la posso fare funzionare benissimo allora vediamo una minaccia qui cosa vedo vedo che questa donna è attaccata dalla mia donna anche la mia donna è attaccata dalla sua bene vedo che la sua donna è difesa dalla torre quindi se mangio la donna non ci guadagno cioè è un cambio alla pari io mangio la sua donna lui mi mangia la mia però se vi ricordate la lezione in cui vi ho spiegato che cos'è un pezzo quasi sospeso io vi disse che i pezzi sospesi sono i pezzi indifesi zero attaccati zero difensori eccetera i pezzi quasi sospesi come li chiamo io sono quelli in cui invece che essere zero contro zero siamo uno contro uno due contro due eccetera eccetera questa donna è attaccata da uno difesa da uno quindi l'equilibrio è molto sottile perché basta che il difensore della donna non lo difenda più e per il nero è un problema quindi detto questo questo grande aiuto fermate il video per quello che vi serve e provate a vedere col bianco cosa giochereste diciamo che la spiegazione è stata spero illuminante ma il punto è che questa torre è il difensore chiave questa torre è il pezzo rompiscatole se questa torre se ne va io gli mangio la donna allora io posso anche fare un investimento sacrificare qualcosa spendere qualcosa per poi mangiargli la donna quindi avrete visto sicuramente questo scacco al re questo scacco al re obbliga il nero a mangiare il re non può rimanere qua non può neanche salire qua e quindi volente o nolente il nero è obbligato a mangiare e a farsi mangiare la donna quindi il bianco ha mangiato ha guadagnato nove punti in cambio di cinque quattro punti vi ricordo che dai due punti in su il guadagno di materiale è cospicuo quattro punti sono un'enormità a scacchi andiamo a vedere il prossimo esempio benissimo questa volta siamo il nero e tocca a noi non vi dico niente il vostro compito è quello di individuare la minaccia che vorreste realizzare ma che non funziona quindi individuare la minaccia difettosa e individuare quale sia il pezzo rompiscatole che vi impedisce di fare questa minaccia se avete indovinato se avete visto entrambe queste cose la soluzione per voi sarà banale fermate pure il video benissimo avrete visto che anche in questo caso la donna è quasi sospesa è attaccata da uno e difesa da uno il pezzo rompiscatole chi è questa volta? è il re, perché il re è il difensore della donna se il re non fosse lì ci mangeremmo la donna bene, investimento rompiamo le scatole, allora rompiscatole allontaniamo il difensore chiave lo obblighiamo ad abbandonare la difesa della donna lui è obbligato a mangiare e anche in questo caso abbiamo guadagnato rispetto al momento del diagramma 9 punti contro 5 4 punti, 1 enormità allora, dal punto di vista tecnico in gergo scacchistico il motivo tattico illustrato nei due esercizi precedenti è la deviazione di un difensore però possiamo considerarla semplicemente come un rompere le scatole al pezzo rompiscatole dal punto di vista pratico non ci cambia nulla molto bene allora, in questa posizione tocca al bianco ancora una volta individuate la minaccia che vorreste realizzare individuate in che modo è difettosa individuate se c'è un pezzo rompiscatola rompiscatole che ve lo impedisce e trovate la soluzione vi do un secondo a chi serve di più fermi il video va bene immagino che l'abbiate visto a questo punto anche in questo caso andiamo a identificare un pezzo quasi sospeso 1 contro 1 quindi 1 contro 1 0 contro 0 2 contro 2 il pezzo è comunque in posizione precaria il pezzo rompiscatole qual è? questo cavallo ma questa volta anziché allontanarlo anziché deviarlo utilizziamo il motivo tattico della eliminazione del difensore lo facciamo fuori diamo una torre 5 punti in cambio di 3 quindi abbiamo perso 2 punti ma ci guadagniamo 5 punti quindi di fatto noi abbiamo mangiato un cavallo e una torre e lui ci ha mangiato solo una torre abbiamo guadagnato un cavallo tantissimo molto bene siamo di nuovo il nero anche questa volta il vostro compito è 1 individuare una minaccia o una o più minacce 2 individuare cosa impedisce il successo nell'esecuzione della minaccia in particolare se c'è un pezzo preciso che ci disturba il pezzo rompiscatole 3 vedere se riusciamo a rompere le scatole le rompiscatole anche in questo caso vi do un secondo a chi serve di più fermi il video molto bene sono sicuro che alcuni di voi avremmo visto che questo è un pezzo quasi sospeso 1 contro 1 ma non è l'unico anche questo è un pezzo quasi sospeso 1 contro 1 questo significa che il pezzo rompiscatole è comunque questa torre qua io potrei cercare di rompere le scatole a questa torre sfruttando il fatto che è sovraccarica a scatti un pezzo sovraccarico è un pezzo che sta facendo troppe cose alla volta per cui molto spesso sta difendendo due cose alla volta e se io lo tiro da una parte come la coperta corta resta scoperta quell'altra quindi la torre in C1 che è un pezzo rompiscatole è un pezzo in questo caso sovraccarico benissimo io potrei tirare la coperta o da una parte o dall'altra andiamo a vedere cosa mi conviene di più se io gioco questa mangio 5 punti lui me ne mangia 9 e gli mangio altri 3 punti io ho mangiato 5 più 3 8 punti contro 9 ci ho rimesso un punto non è stato un grande affare però io potrei fare tirare la coperta dall'altra parte e giocare la torre prende mangio 3 punti me ne faccio mangiare 5 ma poi mangio altri 5 quindi io ho mangiato 5 più 3 e lui ha mangiato solo 5 ho guadagnato 3 punti un'enormità anche in questo caso abbiamo identificato correttamente il pezzo di rompiscatole che era la torre in C1 dove avevamo soltanto trovare il modo di tirare la coperta dalla parte giusta perché in un caso perdevo un punto nell'altro caso guadagnavo 3 punti insomma una bella differenza no? 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 Grazie a tutti.